Buon pomeriggio a tutti amici di OG Cripto e buon Ferragosto. Io sono Andrea e mi occupo della parte criptovalute di OG Trading e Investimenti. Ricordo a tutti che se vi piacciono le analisi o i contenuti che offriamo, di registrarvi al nostro canale Facebook e di lasciare un like al nostro video su YouTube. Grazie mille anticipatamente e cominciamo subito con questa analisi qua giù di Ferragosto dove stiamo morendo dal caddo, ma non ci fermiamo davanti a niente e continuiamo ad analizzare i mercati. Allora stessi livelli che abbiamo visto nella settimana scorsa, abbiamo visto gli approcci quando si stava parlando di Bitcoin che aveva approcciato allora i 42.300 e si fece notare che dall'alto verso il basso ci fu questa candela qua di retesta abbastanza esplicativa per il movimento futuro. Da allora Bitcoin è cresciuto andando a toccare un massimo di 48.199 dollari dove avevamo la resistenza in area 48.273, quindi con un incremento circa del 15%. A questo punto che cosa ci aspetta nel futuro? Per adesso il trend è sicuramente ancora longa, non ci sono punti. Pericoli imminenti di storni enormi, dovremmo andare un attimo su con il time frame, quindi proviamo a vederlo sull'orario, sull'orario non ci piace molto il fatto che tutta la salita è stata fatta praticamente in divergenza birish, quindi probabile che si vada a scaricare un po', soprattutto magari massimo andando a ripescare dalla liquidità in questa zona qua giù dei 42.200, altrimenti la zona sottostante dove poter piazzare un ordine o dove andare a cercare una ripresa e quindi un setup long è qua giù sicuramente in zona 41.000, andando a prendere liquidità dai top che si segnarono a metà giugno. Per adesso comunque setup particolarmente short ancora non ci sono, aspettiamo sicuramente la rottura di questa candela qua di espansione che è stata fatta con volumi molto minimi, quindi la cosa che ci deve mettere in allarme per uno storno che potrebbe continuare magari anche durante la settimana è il fatto appunto di questa divergenza birish e questa salita molto accentuata ma con volumi che non fanno gridare al miracolo. Quindi visione per la settimana, visione con probabile storno di bitcoin, uguale ovviamente seguirà Ethereum, questi qua i livelli segnati, 3.300 era zona critica dove poter andare a prendere profitto, sia che si fosse rientrati sui 2.890 dove è stata fatta questa candela qua giù di retesting, sia se invece eravamo entrati sui livelli minori. Alla fine Ethereum lo stiamo seguendo da diverso tempo e avevamo intravisto questo livello qua giù di 1.722 come possibile zona di ripartenza. Così è stato, ovviamente il mercato ci poteva venire anche contro, non è che siamo dei geni con la quale cristallo assolutamente, però sicuramente era un livello da attenzionare che poi si sia saliti sul treno di Ethereum subito sulla conferma di questa candela qua giù che ha fatto schizzare in alto l'RSI sia sulla ripresa di EMA 200 sia sulla ripresa di questo livello qua giù importantissimo dei 2.157, a noi non ci importa, comunque in zona 3.300 si può prendere profitto parziale. Qua giù vediamo che siamo in procinto di un livello molto 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 importante, la ripresa di questo livello qua giù dei 3.380 quindi ci farebbe nuovamente attaccare l'ultime AIG. Ovviamente noi andiamo a prendere profitto, un primo profitto parziale un po' sotto ovviamente, per evitare rischi di front running e portiamo a casa un po' di guadagno. Quindi, visione su Ethereum, stessa identica o scenario, cioè salita in divergenza Birish. Qua giù i volumi invece sono stati un pochino più sostenuti perché comunque bisogna anche ricordare che da qua giù tutte queste candele qua sono frutto anche dell'implementazione dell'EIP 1559. Quindi abbiamo visto come Ethereum, in caso di congestione della rete, possa effettivamente per alcuni istanti, lo è anche stato, diventare deflazionario. Continuiamo con Matic, Matic con una performance da urlo, onestamente il primo take profit che io avrei consigliato di fare era qua giù, in zona 1 e 36 abbiamo avuto questa candela qua sul giornaliero che ha ritracciato di circa il 10% e dopo invece una candela ulteriore che ci vira verso l'alto. Anche qua giù cosa possiamo notare? Piccola divergenza Birish sul giornaliero e incremento di prezzo con volumi decrescenti. Quindi anche qua giù un piccolo storno potrebbe essere anche salutare. Sicuramente zona da attenzionare particolarmente 1 e 20. 1 e 20 o comunque tutta questa fascia qua. Questa piccola fascia qua dagli 1 e 20, 1 e 23, 1 e 20 potrebbero essere una buona zona di ripartenza, altrimenti zona superiore in zona 1 e 36. Per quanto riguarda Bitcoin, ritornandoci un secondo, sarebbe importantissimo anche da un punto di vista di grafico settimanale riuscire a chiudere sopra i 46.600. Vediamo se lo farà, ricordiamo a tutti che d'estate la chiusura giornaliera di Bitcoin è alle 2 di notte, mentre invece d'inverno e autunno è a luna. Continuiamo il nostro percorso con DOT che recupera EMA 200, vedete come l'incrocio è andato molto molto giù, con DOT quindi EMA 50 che rompa ribasso EMA 200. Arrivati in zona 10 abbiamo avuto un rimbalzo fantastico. Anche qua giù al solito come tutte le principali cripto, quelle a più alta capitalizzazione, vediamo un pattern molto similare, ovvero sempre anche qua giù un incremento di prezzo, non seguito però che non ha un follow up dei volumi e una divergenza bearish, quindi anche qua giù possiamo aspettarci un piccolo storno, tanto più che se questa candela per puro caso dovesse chiudere la daily nella zona della EMA 200 si potrebbe configurare anche quello che si chiama un evening star pattern, quindi un pattern abbastanza ribassista. Quindi anche qua giù vediamo uno storno nel breve, livelli da attenzionare sicuramente i 19, qua giù sui 19 abbiamo una bella sacca di liquidità, altrimenti sotto in zona 1680, sinceramente non credo che si ritorni nel brevissimo a 1680, sarebbe un ritracciamento molto molto accentuato, ma un ritracciamento fino a 19 e 12 praticamente lo prenderei in considerazione, sarebbe anche interessante se lo facesse con una spike abbastanza grande in modo che e poi chiudesse effettivamente Sopre EMA 200, quello sarebbe un grande segnale di forza. Continuiamo con AXS che non ha bisogno assolutamente di niente da dire assolutamente, qua giù in tutta onestà io come ho detto già nel webinar che abbiamo passato durante la settimana, sul discorso degli NFTs ancora non sono così bullish, magari a torto, comunque vedo una cosa che sembra una bolla enorme, vedo una FOMO, vedo terreni su AXS che vengono venduti a 300.000 dollari e non onestamente mi sembra tutto una grandissima cavolata, però vedremo, io sugli NFTs non sono particolarmente bullish, preferisco andare a investire su ambienti che conosco meglio, nonostante adesso ovviamente per ovvie ragioni mi sia messo a studiare anche vari progetti in NFTs. Andiamo, continuiamo a vedere CAR, ovviamente non arresta la sua salita, ha segnato nuovi massimi storici in settimana, quindi a 9 e 52, e per adesso la configurazione è estremamente bullish ancora. Finiamo tutta questa disamina con ELIS, ELIS che sul daily non ci ha permesso di trovare una entry da manuale, visto che le entry che io personalmente mi sentirei di fare sono qua giù a 10 e 60 e dopo a 8 e 70. Questi i due livelli sicuramente da attenzionare, è difficile anche fare valutazioni più di lungo respiro su questi progetti che sono nati da relativamente poco, perché comunque anche gli indicatori sono tutti sballati, come potete vedere su questo grafico, sul giornaliero non abbiamo ancora la comparsa della EMA 200. che cosa stiamo guardando invece noi come gruppo stiamo attenzionando? Ovviamente stiamo continuando ad osservare gli sviluppi di tutti i progetti su cui abbiamo investito nelle Parachain Auction, stiamo aspettando le Parachain Auction di DOT, che continuano a rimandare, ma saranno molto molto interessanti, e stiamo sviluppando, o comunque stiamo cominciando a effettuare piccolissime operazioni sullo yield farming in DeFi, quindi sulla rendita passiva. Questo è quanto per quel che riguarda il mercato cripto di questa settimana, se volete parlarne con voi o avete altre analisi da proporci o avete curiosità riguardo questo mondo gigantesco, vi invito a iscrivervi al nostro canale Telegram, ci trovate sotto OG Criptovalute. Buon Ferragosto e buona serata a tutti. Buon Ferragosto e buona serata a tutti.